La pelle liscia e vellutata Il laser a diode ad alta potenza rappresenta oggi la frontiera nuova dell'epilazione con il laser, una epilazione che è permanente e progressiva. Questo mediante il principio della fototermolisi selettiva. Epil Dream Diod Laser è la rivoluzionaria tecnologia efficace sia sul viso che sul corpo, su tutti i tipi di pelle, su tutti i fototipi e su qualsiasi tipo di pelo. Su pelli abbronzate, nel massimo comfort, in modo rapido, 12 mesi l'anno. Il progetto Laser mi permette di soddisfare le sempre più numerose richieste da parte della clientela maschile e femminile di trattamenti di fotopilazione, in sostituzione alle metodiche tradizionali. Questo crea all'interno dell'istituto una fonte di business con alto fatturato totalmente nuovo. Epil Dream Diod Laser Una straordinaria opportunità Perché si rivolge a tutti, uomini e donne. Perché dà risultati senza precedenti, con meno sedute e con budget più accessibili. I sogni spesso diventano realtà. E da oggi, con Epil Dream Diod Laser, l'epilazione cambia davvero e nessuna pelle avrà più peli indesiderati. Grazie a tutti.